Bufera sul comune di Maddaloni. La sindaca Rosa de Lucia di Forza Italia, 36 anni, è finita in carcere con accuse pesantissime che la vedono coinvolta in una vicenda di mazzette sugli appalti per la raccolta dei rifiuti. Ai domiciliari anche l'assessore Cecilia Danna, il consigliere comunale Giuseppina Pascarella e l'imprenditore operante nel settore dei servizi ecologici Giuseppe Di Nardi. Provvedimenti giudiziari, anche per un altro consigliere Giancarlo Vigliotti, insieme al sindaco e all'imprenditore sono ritenuti responsabili a vario titolo di corruzione, tentata induzione in debita, dare e promettere qualcosa e peculato in concorso. I carabinieri di Maddaloni, guidati dal capitano Puca e del comando provinciale di Caserta, hanno notificato informazioni di garanzia per corruzione anche ad un consigliere di maggioranza e disposto dalla procura di Santa Maria Capoavetere il sequestro preventivo di un importo di circa un milione di euro a carico dell'imprenditore, che teneva tutti sotto scacco. Per quell'appalto alla sua ditta, che puntualmente gli veniva rinnovato ogni tre mesi utilizzando le scamotage dei lavori di somma urgenza, condizione che evita di bandire una normale gara d'appalto, l'imprenditore Di Nardi percepiva circa 420 mila euro al mese, 5 milioni in un anno. La sindaca, secondo quanto accertato dagli investigatori e i consiglieri coinvolti, percepivano somme di denaro ogni qualvolta riconfermavano in consiglio comunale l'appalto alla ditta mica. Anche il comandante della polizia municipale di Maddaloni, Bartolomeo Vinci Guerra, è indagato con l'accusa di peculato. Era solito accompagnare un consigliere comunale in Calabria per poi riportarlo a Maddaloni per partecipare a consigli comunali con all'ordine del giorno argomenti ritenuti di rilievo, come appunto una delibera per confermare l'appalto a Di Nardi e all'approvazione del bilancio. Hanno monitorato i colloqui fra l'imprenditore e il sindaco, colloqui molto significativi, espliciti di pagamenti di somme, riscontrati poi dall'attività di osservazione in relazione agli incontri che venivano fissati nel corso delle conversazioni. Grazie